Il signor Cosenza ha una problematica che non riesce a risolvere. Si tratta della domiciliazione postale di una bolletta del ruzzo. Ma cosa succede? Succede che io ho chiesto la possibilità, ho fatto la domanda per la domiciliazione della mia fornitura e mi dicono che hanno un problema tra i loro tecnici e le poste italiane per poter addebitare questa mia fornitura, questa mia bolletta, sul conto corrente postale che ho intestato con mia moglie. Eppure lei ha un'altra fornitura, sempre del ruzzo e sempre su quel conto postale. Esattamente, ed è andata a buon fine. Tutto ciò è stato fatto in contemporaneo allo stesso giorno, una è andata a buon fine e l'altra no. Mi sono regato presso l'ufficio in via Nicoladati e mi hanno risposto che avevano queste problematiche. Però, alla mia richiesta di darmi una comunicazione per iscritto, mi è stato risposto che lo annotiamo nelle nostre note che le ho comunicato questa difficoltà che abbiamo. Nonostante questo, vado a casa e via fax reinvio nuovamente la domiciliazione bancaria per ottenere una risposta questa volta. Dopo 15 giorni circa, adesso non ricordo bene, mi richiamano nuovamente e mi dicono che non è possibile effettuare la domiciliazione perché hanno delle problematiche con l'ufficio postale. Ma in contemporaneo io mi ritrovo la fornitura di mia moglie a debitare su questo conto intestato che è andata a buon fine sulla debito in conto corrente postale. A questo punto non capisco le motivazioni e non capisco per quale motivo non vogliono dare per iscritto un qualcosa e si nascondono, ieri ha fatto l'anno, chiamano le nostre note. E io sono un normalissimo utente il quale spesso e volentieri vorrebbe darsi che sta all'estero, c'è un mio figlio che sta fuori, non devo stare a pensare che il giorno 10 del mese debba andare a pagare una bolletta all'ufficio postale per queste motivazioni loro interne, insomma, ma che sono ormai da agosto, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sono cinque mesi e non riescono a risolvere. Insomma, un dubbio che non si riesce a comprendere perché una bolletta sì e una bolletta no. No, il dubbio è per quale motivo non vogliono scriverlo e dare comunicazione ufficiale all'utente. Quindi approfittiamo delle nostre telecamere, cosa diciamo a Ruzzo? Risolverete il mio problema.